Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono a Frank93 Oggi ci sono buonissime notizie Praticamente, il computer prima di tutto funziona bene, l'ho andata a ritirare E guardate praticamente, c'è questo problema Quando ho portato il computer raggiunto, per un problema qualsiasi hanno dovuto cangillare lo spaccacotto E adesso, come state vedendo, lo sto riscaricando Andando, riducco l'icona Praticamente c'ho Fortnite, GTA, Apex Legends e Minecraft Che però, usando GTA, usando Fortnite e usando Apex Legends Non riesco a farli partire, non riesco a farli funzionare Perché l'imposto, vabbè, GTA, deve fare un aggiornamento, lo fa, però manco se viene addio Aspettiamo che 2 giga Andavo pure la persona aggiornata Eh, ragazzi, ok, Gameflot, stanno 2013 Longa Aspett 8 è il più bello Cioè, Aspett 9 non tanto mi piace Però, raga, io sono tipo di Aspett 8, guarda, è troppo bello Non ho visto che, ragazzi, io comincerò a fare canzoni, bene o male sul mio canale Ho già pensato pure ad Office, bene o male per scrivere Ho già pensato pure ad Office, intanto io ho pensato a tutto Comunque ragazzi, ci vedremo in un prossimo video E ciao alla prossima